ok ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale oggi faremo l'unboxing del mio nuovo pianoforte portatile si chiama Casho Tom portatile quindi ora ve la faccio vedere ecco ok ora apriamo veramente questa parte qua ma è già aperto non ti credo dai giù giù ho giocato che fai questo questo si è chiuso apriamo questa qui prima ok giù e adesso apri tu apri questa parte qua e io apri questa parte bravo bravo ok piano piano wow wow che non c'è una cadena che è un holder è un holder pausa vai inclusa la competizione yeah ok 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 apri prima questa apri prima questa e si apri anche questo se non sbaglio ok 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 sai cosa si fa quando abbiamo trovato questi cosa si fa 3 2 1 via ok cominciamo a aprirlo e spacchettare troppo non c'è un altro no non fa così aspetta poi suoneremo alcuni pezzi su di questo oh che meraviglia che sono ecco perché si chiama portatile perché c'è questa maniglia qui si si lo so che lo vuoi sapere quindi guardiamo qui 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 è benissimo attendo a te l'onore di buttarlo mi trovo ok grazie ok e non c'è neanche l'alimentatore quindi il papà l'ha comprato esclusamente senza quina c'è quindi Ale sta già prendo buonissimo ok ok questo è bellissimo poi ci sono Ale cosa cosa le istruzioni poi c'è un'altra cosa qua dentro Ale Ale attena vai ora ora mettiamo questo qua ecco questo è quello questo Ale questo è dove si mette tipo il pentagramma quaderno e scrivere le note tipo di musicale si mette qua è tipo ora io suonerò una tipo qualcosina e qua c'è questo qua che serve che si si deve connettere l'elettricità che si connette qua e funzionerà quindi questo è proprio il brand cash c'è scritto qua cash ok 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 ora si lo dobbiamo connettere proprio proprio qua ok ok questo è l'oltre questo è l'oltre Ale adesso cominciamo ok 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 per proteggere il mio nuovo pianoforte casettone il papà mi ha comprato la custodia questa è la custodia wow che cos'è è la custodia è la custodia Ale e quale per questo per portarlo avanti indietro trasportarlo capito questa è la custodia adesso è la custodia wow adesso è il momento di suonare un altro per suonare qualcosa ma che fa fare cosa hai fatto niente tipo tipo ah mi stai cambiando il volume mi sto confondendo però qui ci sono proprio i volumi per qua piano aspettate questo è piano e questo qui è piano qua organ qua qua strings quello che mi piacciono di più dove sono? ah non è il volume ok ora suonerò tipo una ok mettiamo sul piano e suonere suonere qualcosa Ale no no il volume no ok poi ti andai vabbè 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 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 8 9 10 9 10 11 11 12 12 12 12 13 15 13 ok ragazzi questo è come sono il mio planoforte e ci imparerò su e grazie per aver guardato quindi ciao non vi dovete dimenticare di dare un pollice in su like condividere share e iscrivervi subscribe premetelo premetelo ok ciao ciao